cosa c'è di meglio di fotografare l'opera di madre natura è spettacolare se anche tu sei un appassionato come me di fotografia naturalistica di geologia di ambiente naturale c'è un concorso fotografico proprio per te la fondazione dei geologi della toscana indetto un concorso che premierà le migliori fotografie suddivise in quattro macro categorie per esaltare per elogiare l'ambiente geologico in particolare per tutte le informazioni puoi consultare il sito della fondazione dei geologi della toscana anche la pagina facebook dell'ordine dei geologi della toscana lì potrai trovare tutte le specifiche per poter partecipare a questo bellissimo concorso fotografico